Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta formaggiosa gradinata. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono per la besciamella, latte, burro, farina, sale, noce moscata e pepe. Per la pasta, pasta corta, burro, fontina, gorgonzola e parmigiano grattugiato. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la besciamella. Mettere nel boccale il latte, la farina, il burro, il sale, il pepe e la noce moscata. Cuocere per 8 minuti. 100 gradi. Velocità a 4. Aggiungere il burro, il gorgonzola, il parmigiano grattugiato, la fontina ed azionare il biebi per 5 minuti, 60 gradi. Velocità a 1. Nel frattempo cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente. amalgamare per 20 secondi a velocità 3. la salsa è pronta, trasferire in una ciotola capiente. amalgamare bene. trasferire in una teglia ben imburrata. cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 20 minuti circa. pasta formaggiosa gradinata. grazie e alla prossima ricetta. grazie a tutti. grazie a tutti.